Buonasera, 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 regista con tutti gli attori, attrici, attori, che vediamo stasera, regista? Stasera vediamo una commedia di Raffaele Caglianiello, non è mai troppo presto, una commedia brillante, in due atti sperando che il pubblico faccia sia di gradimento del pubblico. Ci presenti qualche attore, qualche attrice, chi abbiamo sui colori? Abbiamo questa è la nostra punta di diamante, Ciro Vitolo, è un grande copico, molto frizzante, molto naturale. È molto buono Andrea, è buono buono, è la verità. Poi abbiamo la splendida, dice tu? Melania, sono la suocera del signore qui presenta. Ma il tuo nome qual è? Melania, Gabriella Pizzu, si lega la suocera, mi voglio tanto bene. Mi vuole male, a me mi vuole male. Diciamo il mio nome. Gianni Russo, Interlacone, Interlacone, il suo personaggio, dici che è il tuo personaggio? Rosa Ippolito, cameriera Carmela. Roberto Evangelista, Viola Lamante. Viola, qui che abbiamo? Io sono Fiorella, la moglie, sono Paola Armone, la moglie del sindaco praticamente. Prima tutta dolcina, poi dopo gli faccio un mazio a tuone. Benissimo. Lei è la nostra truccatrice. Lì che abbiamo? Io sono Rosalia, una caffola e praticamente lavoro per loro, per la signora Melania. La signora Melania. Ok, abbiamo lei. Io sono Giovanna Variale e sono Inate e Mirella Bonazza. Ok, abbiamo detto tutti? Sì, sì, sì. Ok, tanta merda. Andiamo di là, andiamo di là. Il prete è stato di qua. Tiro Palma, Don Ciro, pace bene. Pace bene, grazie Don Ciro. Allora, dottor Cialone, abbiamo già conosciuto tutta la compagnia. Resta lui, col berretto, nome e interprete. Alfonso faccio Filippo, è campagnolo, sono il campagnolo della compagnia. Il sindaco, carissima sindaco. Lavorate. Io sono Alonso, il fedelo del sindaco. E sono il cagà, sono un cagaglio, cagà. Ma sei bello, mi stupato. Ti piace, è più bello quello tuoi.